bene ragazzi eccoci eccoci oddio dove finita merina dove finita la mia carta a sei qui sai esci allora bene siamo pronti siamo pronti ok questa è la panoramica del tuo show qui troverai la riporterà per riportare tutte le opzioni che hai selezionato a ecco questo è buono perché prima cosa succedeva come tu cliccavi partivi e forse per sbaglio succedeva che non volevi partire il match è successo casini hai selezionato o non selezionato per lo show di questa settimana e l'ultimo caso è per apportare ecco vedi vedi puoi tornare indietro no invece prima è la madonna sto coso come sbatte oh no no non deve rompere no no aspetta fermi tutti già ho visto che è successo fermi che è partì che è sbattuto una cosa e non voglio un atto signori non ho testa che sbatte cose perché ora come ora è no perché la mia carta è sul terrazzo però essendo che sbatte e non me ne tiene proprio ecco qua ecco qua ma non deve non dovrebbe più sbattere allora stavo dicendo scusatemi che praticamente ogni volta cosa succedeva succedeva che se tu cliccavi diciamo al volo no che poteva scappare la cosa clicca involontariamente dimenticando che non hai fatto delle accura delle accortenze ok ecco bene costo show 33 mila 500 budget 200 mila fan un milione speriamo o la va ora ora ti diamo il benvenuto al tuo show qui puoi scegliere se simulare i match assisterli o addirittura partecipare come vuoi qui vabbè partecipare qui gli spettatori valutano il match e promo da te organizzato se sei di fretta puoi simulare intero match non mi piace neanche un po io odio simulare quindi adesso spettatore noi adesso lo esamineremo per le condizioni le info ti diamo il benvenuto alle info ok volevo ok allora per logica essendo che sono cinque stelle io penso che questo match potrebbe andare almeno a un quattro stelle perché cinque il massimo ok io vorrei simulare però essendo che voglio anche farvi vedere cose andiamo come spettatore che non voglio giocare a volte io giocherei solo se diciamocelo onestamente ok sentite la voce mi sentite a me e è la voce del tizio qui ok sì perché voglio che la voce si sente bene ok io parlo spero che si sente tutto mentre anche mi parla quindi se ci sono dei problemi signori lo abbassero nel prossimo video d'accordo speriamo che ho fatto un buon lavoro perché signori io non posso assicurarvi nulla ok intanto mi devo un bel caffè io posso scegliere di partecipare i match solo quando vedo che per esempio questo qui vince sempre l'altro perde dopo già due volte la terza volta partecipo io faccio vincere capito questo è perché poi i personaggi sapete non è che sono sempre contenti di perdere fino a un certo punto oh sanga sembra un tipo fido adesso vediamo come andrà a finire qua beh c'è andata bene che siamo riusciti a fare già almeno un match non a scuola ok la qualità comunque è buona e non è malvagio del gioco si vede anche lui che cacchio di problemi hai fratello bene ora vediamo quanto sono forti almeno spero che trattate un buon valore perché vi assicuro che non ho paura che andrà tutto male guarda che ci sono tutti molta gente fecha e la madonna com'è partito a razzo Tozawa ecco bravo oh la gente esulta esulta ok cammina dove posso cambiare la visuale ah ecco qua oh ah sta inquadrando solo lui sta inquadrando bella l'inquadratura di tutti i tuoi oh oddio cosa mi stai dicendo nooo ah giusto c'è il match tavolo out of the ring what's his plan here all that hurt getting carried around bad spot to be in ah it took too long setting up for that maneuver brought back into the ring from the floor now ok settin' it uh big one brain buster and soggo's competition to to student home for perfect time to attack when his guard is down Oh ecco come funziona, ah ma più figata è, no mi piace signori, mi piace, scusate che non sto studiando, era giusto per imparare un po' i match, guarda quanta cacchio di inquadrature, di tutti i modi, bello mi piace, intanto gli sta pigliando, bella, bravo Tozawa, ma non avevo messo lo sconto, ah cavolo è vero non è più per il titolo, giusto, sbagliato, non è per il titolo, perché giustamente avendolo, avendolo cambiato dopo, eh cazzo, l'ho nato solo adesso, ecco l'ho cambiato dopo ragazzi, mi ho scordato, questo è un errore mio, interagente artificiale ogni tanto va a farti fottere, ole, guarda che belli l'intero operativo, ole, u, tre, due, uno, ha buttato sul tavolo, no, niente tavolo, pensavo, che cosa sta facendo? ok, tozawa, lui solo la testa gli fa male, però il resto del corpo è ok, ole, tre, due, uno, no, bello, ecco, guarda se avesse, se avesse, madonna se lo sconfigge adesso, minchia, il titolo, cioè l'avrebbe perso subito, ma voi avete capito che, madonna sta per rischiare, madonna, se era per il titolo, signori, che succedeva, vabbè, è andata, è andata, signori, l'abbiamo rischiato, beh, era un modo per capire un po' come funzionano le telecamere, signori, oh, ma questo io già l'ho vista, questo, ma non morico, mediocre, madonna, ma che schifezza che è stato, ma ho sbagliato io, perché doveva essere a tre per il titolo, eh, ho sbagliato io, eh, eh, nel valutare i tuoi match, i fan considerano molti fattori, ad esempio gli abbinamenti tra classe e tra ruoli, i tipi di match, la popolarità e molto altro, giusto, anche se non hai ricevuto le valutazioni che desideravi, puoi sempre fare qualche prova per vedere cose che funziona meglio, ok, meglio c'è da fare, ok, a quanto pare queste superstar sono coinvolti in una rivalità, eventuali incontri futuri avranno la possibilità di alzare, oh, perché infatti la rivalità da zero è passata a uno, avete visto, eh, fino a livello 4 e si conclude con un show bonus qualità, non prolungare troppo le rivalità attive, una rivalità presistente a livello 4 al di fuori di un, ecco, play, può diventare sta, sta, stantia, ah, ok, ok, diventa noiosa, ok, beh, almeno c'è stata rivalità aumentata, eh, ho sbagliato io perché doveva essere per il titolo, signori, eh, è salita la rivalità, buono, lo sapevo già, ecco, qua, eh, spettatore, qua è per il, oh, ero tutti per il titolo, solo quello ho sbagliato, perché doveva arrivare almeno a tre, ora, la mia paura è che questo può aver più successo di quello di prima, il mio errore è stato quello, signori, lo ammetto, ho sbagliato in questo, bene, vediamo i personaggi nuovi, cioè, nuovi, vediamo come li hanno fatti, che ho molta paura, eh, ho sbagliato io, scusatemi, raga, onesto, eccola qui una, questa è una bella grossa qua, buttata giù è un parolone, fatta bene, però, eh, molto bene, complimenti, no, ma si vede di qualità, ragazzi, il gioco è migliorato, eh, ma sta solo migliorando, sono contento, lo dico, ok, ok, la sua compagna, che è una Valkyria, cioè, una vichinga, Vahalla, non si vedeva anche il soundtrack, raga, lo so, scusatemi, ma io sto registrando per i creator e quindi hanno tolto tutte le musiche che sono un track ufficiale. I Gli Goni hanno parlato, e solo lei sa cosa hanno detto. Vahalla, dai, dillo, molto particolare questa, figo, mi piace come l'hanno fatta. tipo, madonna, madonna, ah, 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 adereteggio. all over the world before coming to WWE though she has certainly transformed since she returned all that training plus her Viking experiences have made her very dangerous Bahalla has simply become unhinged there's no telling what she's gonna do anymore pure Valle, Bella Cross come personaggio, eh, non scherzo figa, mi piace un po' così, però... ok oh, però ho lavorato bene in personale faccio i complimenti di tutti i dettagli del costume le coglioni, devo dire la verità eccoli qua e adesso arrivo nei loro rivales, le loro rivalesse già bu ho sentito ma a Vega non è che tutti la stimano a questa, però... io ripeto, sono match iniziale e normale di avere una qualità un po' meh peccato soltanto che doveva essere per il titolo prima mannaggia a me che ho sbagliato me è culpa me è culpa e volevo vedere dove è la mia carta ogni tanto la mia carta la vedo ah, si è spostata dall'altra parte si, voglio capire che fine fa ogni tanto ma ora sembra destina per il top madonna i fischi ragazzi, i fischi non la vuole nessuna questa ah, non mi piace neanche un po' questa cosa ah, non mi piace neanche un po' bene, poi, prossimo dai, forse l'altra avrà un po' più successo ti prego di venisi per favore la vedo molto male questo match questa settimana oh, oh quanto sei carina, oh non so chi sei, però a posto però hai non il volto è proprio l'entrata, mi ricorda qualcuno tegan nox nox, 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 cazzo, mi ricordo di lei forse lo sapete? boh, la sono già dimenticata ecco ecco, infatti, lei sulta un po' di più a questo dai, dai è positivo, è positivo è positivo è positivo, già le insultano un po' di più dai, meno male meno male la mia paurezza è che per la sminciaura lei insultavano a posto sì, però ha i capelli colorati il vomito di arcobaleno, praticamente oh, bello l'introduzione del bello tag team women's champions women's tag team championship bene buona qualità comunque dei modelli lo ripeto, luminosità è tutto guarda quanti ne sono uno come si vede che ha una buona qualità ok fatti sotto dall'altra oddio, l'animazione sono andate un po' a quel paese sono andate il generico era normale si uno contro uno match normale speriamo in bene io la vedo male ah, vedi come le hanno cambiate le posizioni dei nomi ok già cominciamo benissimo venga le stai prendendo venga 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 vediamo quanta intelligenza artificiale è migliorata perchè ogni tanto fanno un po' cagare lo stai prendendo ah ok l'uno è proprio grandissimo tre quindi ok hanno messo il conteggio in quel modo brutto doveva messa le tue secondo un po' più sopra al centro è brutto ok la cosa si ripiglia non è che non si ripiglia giustamente scordito 9 Eh beh dovevate Giustamente C'è pure rincoglioni da tu però L'aveva giocata bene Ah credo che lì fa male Lo so che è tutto finto Signori però considerate che dovete Devono allenarsi continuamente Per una settimana Per fare un match molto bello E impressionante Soprattutto non far notare che è finto la cosa O comunque organizzato Si siete fatti male insieme Complimenti Mi siete dimenticati come si combatte Di già Eh no No tu ritorna Che poi è diventata buona Bella questa No eh credo che si è liberata Da solo tranquilla Ah quella la figlia L'ha ammazzata L'ha sentita Belle Oh le animazioni sono migliorate eh Ti faccio i miei complimenti E sta prendendo Come lo sappiate Ah sta insultando il pubblico Ma che problemi avete Oh bella Quella si deve ancora riprendersi E quell'altra Ok Comunque si vede che è migliorato il gioco Eh rispetto Qualche annetto qua Qua la madonna Approfitta Vabbè era un po' difficile Allora lo special Sono i gialli là sotto Come anche negli altri Solo che Da non sottovalutare che non è facile Qua sta facendo Valla Perché quella sta girando Per fatti su Ah boh Non lo voglio sapere Bello Madonna Madonna Eppure però Valla per la grossa Anche lei eh Madonna La sta appena Ma la sta La sta ammenata Con i cazzotti Infatti Volevo vedere Inquadrature Migliori però Ragazzi La stanno a menà Questa Oh Poverina Le ha pigliate però Vegas Eh Vegas Le ha pigliate tutte E intanto Gli avversari Sono ripresi Ah bella Ci sono un po' ripresi Gli avversari Vegas Lo stai pigliando Aia Oh Vegas E Vegas Se l'ha al tir Oh bello Bello Oh complimenti Mi è piaciuto Aia Signori Quello che sta facendo Il legato Oh La stordita Blocca Hanno vinto Hanno vinto Bella Gli ha fatto Questo Mi è piaciuto Gli ha fatto Un contramossa Bellissimo Inaspettato Cioè Avevo paura Che perdessero Eh ammetto Ma bello Bellissimo 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 Cioè Valla L'ha menata Il più possibile Poi Alla fine Mi cade così Bellissimo E infatti Perché Giustamente Potrebbe essere Tre stelle Pieno Perché Il match Maschile Non c'era Il titolo Mannaccia Io l'avevo calcolato Mannaccia L'avevo calcolato Eh vabbè Buono Quindi parte la rivalità Decente Ma nessuna rivalità Sfiga Ok Vabbè Vale a uno Oh Spettatore Eh Cacca Cacce divertiamo Cacce divertiamo Ah Quando fate Delle coppie Specifiche Attenzione Fanno la loro Intro originale Quando sono le coppie Per eccellenza Quando fai le giuste Le coppie Infatti Credo che Parte proprio La versione Della coppia Dei due vichinghi Che adesso Adesso li chiamo Vichinghi Anche se si somigliamo Più rima I vichinghi Prima li chiamavano Eccoli qua Entrambi Eh Eccoli Vikings Da viching Riders Eccoli là Guarda che fighi Perché giustamente Sono in coppia E fanno una buona squadra Mamma mia Dovevo andare lì in mezzo Adesso a fare cose Dei scudi Guarda che bello Ecco che vi ho L'ho fatta a coppia Raga Tecnicamente Anche quell'altro Due che ho messo Dovevo essere coppia Non mi ricordo Controlliamo Vediamo Adesso Vediamo gli altri Sì Bellissimo Che canta Bellissimo Guarda così Sciala Che l'hanno Dovuto fare Tutta l'animazione Corretta Cioè Loro hanno fatto L'animazione Vera e propria Poi no Il costume Del move capture Quindi quello che vedete Tutto reale Come hanno migliato Le L'estensione Delle corde Il miglioramento Delle ondulazioni Delle corde Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Scusate Fatto benissimo Bello Bravo Ora arrivo il suo compagno Qui non sono in squadra In coppia Speravo Allora ho sbagliato io Apollo Apollo Vai Apollo Che poi io lo conosco Che poi io lo conosco Quando era più Perché lui è bassi Un cruisire Però è Ma è pompatissimo Sto coso Dove stai Eccolo Come può essere Questo un cruisire Più grosso di me Questo Beh c'è la sua musica Però non la possiamo sentire Quindi Apollo Cruz Eh ma lui è grosso Cioè Cioè Non è che è grosso È È Basso Però è visto come un cruisire Ma è una muscolatura Della madonna Che è proprio Levati Bene Vediamo quanto Quanto è bravo lui Perché lui lo conosco Solo quando era Molto più giovane Infatti È Irriconoscibile Rispetto a quando Lo vedi Negli anni 2000 Eh Sì ragazzi Avete capito Lui è abbastanza grande L'età Non è Giovannississimo Però Sai il fatto è suo Dai E' uno di quei wrestler Che ancora Si fa sentire Della vecchia generazione Bene Speriamo in bene signori Questo dovrebbe essere Un bel match Forse era questo Che dovevo mettere Secondo me Direttamente Nel Nel Man event Nell'evento Sì Secondo me era questo Sì Ho la sensazione Che questo Guardiamo un fottio Guarda Ho paura Eccoli qua Vedi quante grosse massicce Lui lo chiama Cruzaio No comunque Sono fatti bene I personaggi Lasciamo stare Ragazzi Sono fatti troppo bene Minchia La 2K È migliorata Tantissimo Cioè Quella cosa del tipo Ah dobbiamo migliorare Le caratteristiche Del gioco Del brand Del gioco E infatti Minchia Questo è soltanto Io c'è che non cambiano Gli arbitri Cazzo Hanno rivolte Del 2002 Quello del 2001 2002 Del 2020 Scusatemi Vai Sì Fidati 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 Vado prima io Sicuro Sì Ah L'ammazzata L'ha presa Vedete Ah vedete i colori Blu e rosso Noi l'ho vinto Ah Quelli perché sono cattini Quelli blu Ah giusto Per facilitare Perché a gente si scorda Chi è buono e cattivo Quindi lo facciamo anche per colore Ok Questa cosa mi mancava R-Craft Vai Ah già il cambio È incestamente Si sta Perché lui è il più grosso E lui è Cruzaire Sì però Cruzaire A parte che sei più grosso Di lui Ma sei sicuro Che sei un Cruzaire Ma poi Tu hai seri problemi Oh bella Eh Quello fa maglia Di nuovo Bel colpo No L'arbitro Ha preso l'arbitro No C'è il cambio Eh Ho paura Questi possono avere Hanno una combo Tutta loro Sì Hanno una combo Tutta loro Hanno La loro Variabile Giusto Perché Giustamente Sono la coppia Perfetta Madonna Così Spettifolo Eh beh Sono più cattive E brutali Aia Apollo Le stai piglia Apollo 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 Fai qualcosa Apollo Madonna Come le piglia E buttalo giù Fai qualcosa Apollo Benalo Sì come no Apollo Le stai prendendo Tutte tu le stai prendendo Bella La schiva Bella Riuscire a liberarsi Bravo Finalmente Fai qualcosa Apollo Finalmente Si vedranno Ah Parentesi Non credete Che solo Che alcuni Fanno Il sangue Finto Roba Sibile Alcune volte Sono Bella Bella Questa Bella A volte Succede Che I Gli Cerenzi Succedono Come In questi Match Quindi Ci sta Bella Bella Trust Io tipo Per lui E' simpatico Buttalo giù Bellissima Bravo No Niente Un nuovo Champion Non è tirata Guarda che cosa voleva fare Che bastardo Voleva afferrarlo Bella Bravo Così si fa No Cosa Stai Sì Puttati Tre Due Uno Ha fatto bene Perché secondo me C'è il contratto Ok No dimmi che Sì Ha avuto Fai il cambio Un peccato Eh forse è meglio Non lo so Vediamo Vai Apollo Fai qualcosa Bella Ah Adesso si arrende Si figura Che un bichino Si arrende Sì ma Apollo E' una bestia Bello le animazioni Tantissimo Ancora Di nuovo No Madonna Apollo Sei partito Ma Apollo Oddio Che cosa è Ah 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 Trash Si è vendicato Si sta Pervelando Mi prego Lo sto vedendo No Bellissimo Si sta nomerando Si sta nomerando Con i due Si è dovuto Vendicare Quello E la Madonna Ok però Volevo capire Cosa sta succedendo Ah ecco Ah 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 Oddio Cioè avete capito Eric si è incazzato Con Trash Che l'ha buttato giù Quindi quando Trash è uscito Ha cambiato Eric Eric E Ivar Scusatemi E praticamente Ha voluto Andarla a menare Cioè Le NPC Sono scannate a vicenda Perché c'è stata La vendetta personale Ma bellissimo Apollo 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 Le sta prendendo Di nuovo Apollo Apollo Fai qualcosa Apollo Fai qualcosa Dai Non puoi farti battere Di nuovo Ok Oddio Cos'è successo Bellissimo Ti prego Bravo Cambiati Eh Quello è più grosso Di te però E' sufficiente Ok Eric È quello più debole Rispetto Alla coppia No Trash Bella Bravo Mamma mia Bad match Mi sta piacendo Eh si rischia Che vincono loro Cioè Guadagno un po' Tio Bella Bell'intervento Apollo Eh ci stanno a scannare What the fuck Mi è piaciuto Levati Ahia Non stanno a poter uscire Ragazzi Madonna Quanta carta Titegna Bellissimo Bellissimo Tutto Quelli si stanno a menare Comunque Apollo e compagni Ebbene si stanno a menare Voi non lo saperemo Se stanno a menare Ah Vedi Fa vedere la cinematica Allora ogni tanto Che ci stanno Anche a fare loro danni Dai si stanno Si sta Venuti Quello si stanno a menare Ok Ah Che bel cambio Di inquadratura Che non doveva essere In quel momento Trust Te sta a menare Malissimo Trust No È morto Trust Le sta pigliando Trust Dai cambio E vabbè Appena muo è arrivato Madonna Ma Ivar È pericolosissimo È cattivissimo È cattivissimo Ivar È cattivissimo No Non mi sto a dire adesso Pollo Che cos'è quella Ah Ah Poverito Apollo È morto È morto Apollo Madonna Che match Bello Aia Apollo Fatti segnare la croce Ah Ecco Questo è salvato Ci si rivede Ci si rincontra E Aio Ah Bella Bello Scontro tra Eric Trust E tanta roba Ti prego Dimmi che lo blocchi Perché veramente È un match fantastico Mi sta piacendo Però non andate per le lunghe Perché se no No Bomba No niente cambio È il cambio Apollo È L'anello Ah no L'anello Sono debole Della situazione Oh Uh Guardate l'animazione Come prepara quel salto E olè Vedete Sì Uno No Ma no 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 Un titano Oh Lo special di Apollo Apollo Uno Due Grande Hanno vinto Madonna è morta, io ve l'ho detto che era l'anello più debole Hanno vinto, bellissimo, guarda, ha il sangue in faccia, guardate Ha il sangue in faccia, ragazzi, si vede, ma è stata affigliata comunque, eh, prima È più realistico così, signori, mi dispiace, è più realistico, mi piace, bello È stato un bel match, almeno questo tre stelle sicuro, tre stelle sicuro Tre stelle sicuro, bello, tre stelle sicuro Due stelle e me, eh, una donna, che tristezza, eh, che cazzo Eh, vabbè Vabbè, poi controlleremo perché È partita una rivalità comunque Ok Buono, non è una rivalità fra loro due, è una tristezza Eh, questo è quello che io sto sperando che dovrebbe almeno fare tre stelle e salire Ho molta paura, ho molta paura Spettatore Eh, ma sono nei primi match, raga, è normale che è così, però che palle Ok, ora vediamo come sono fatti i personaggi Sì, perché io voglio anche vederli, raga Uh la la Eh, Max Indroopri Mamma mia, quanto sei carina Stupera mi Eh, eh, volevo dire, è carina Sto scherzando ragazzi, sto scherzando Io a lei non l'ho vista neanche combattere neanche una volta Ma perché questo è della versione, questi match che stanno succedendo nel 2023, 2024 Ragazzi, io non li sto guardando Quindi tecnicamente non so quanto è forte, cosa è la sua abilità, le sue combo, le sue dinamiche di gioco Quello che so è che è una combattente Quindi, buona fortuna Anche se questa è praticamente Barbie contro Contro un Non lo so definire l'altra Una che sa come farti il culo in pratica Rondi Rondi Ti fa molto male Ecco la bestia la chiamola Minchia Già incazzata nera lei, minchia Mi coglione, Ronda Tizia, scappa Sta arrivando, scappa Guarda, spero che hai scritto in teute volontà Perché che è stata bene Ronda Ho capito, ma che la sta scappando nel frattempo Barbie della situazione è scappata già Io solo a guardare questa come arriva Che l'hai scappata Ok, basta, la smetti, scusate Mi scuso, mi scuso Ronda Rousey Ronda Rousey Eh vabbè raga, è vittoria Cioè abbiamo già capito chi è la preferita Che è la saltellina per dire sono pronta a combattere Eh ho capito, ma che è stata emena Chi è stato quel cretino a metterti contro lei? Ah, io Scusa Barbie Chi è che ti ha messo contro Ronda? Io Si Lei è tutta contenta Si, combatteremo, vinceremo Sono ora più bella, più figlia, più bella Che l'hai pronta a uccidersi Guarda la La gioia contro la rabbia, non so Io sto veramente vedendo l'opposto Tra una che è in un pezzo di pane contro Non lo so, un pezzo d'osso E' roba silver Non lo so Io la vedo male a quella Ed è un Extreme Rules Raga, è un Extreme Rules questo che ho scelto, eh È un Extreme Rules E lei è vantaggiata al 100% Dupree scappa Dupree scappa Dupree scappa Oh, bello Fuori Dai, forse Avrà un vantaggio del 10% Ullala Eh Che cazzo Cosa ho visto Cos'è? Ma che è una ballerina di danza classica, lei Minchia Che cazzo Che sto vedendo Ah, già va direttamente con la cattiveria Già Già andiamo a menare Andiamo già a menare Ho capito che lei Però te dai cazzotti A lei non gli servono le armi a ronda Le stesse è un'arma I pugni sono armi Questa già te fa una presa di sottomissione e sei morta Sì, infatti lei non va neanche a prendere l'arma Lei va direttamente a colpire Oh, morta Morta È stato bello Ronda non va a usare l'arma, interessante Vabbè, vabbè Ma io Ma lei non ha bisogno di questo Lei ti fa la presa E' morto te Ah, ok Lei si è andata a prendere l'arma Che arma hai presa? Eeeeee Perché la scala? Perché la scala? Puoi usare una scala contro di lei Andiamo sul leggero Ok Ah, belle le animazioni Sono migliorate Cioè, in senso che Le combo sono varie Di tutti i titoli Ah, l'ha ammazzata la presa Ah, quello fa molto male Ok Ok, quella si sta Cerca di salvarsi in qualche modo Ah, bella Oh Come non detto Ok Cosa sta facendo? Ah, ancora Prende roba? Ah, pure È tanto Tra il tavolo e le scale e tutto Ah, ecco l'inquadratura Ah, quante inquadrature miste? Ah Ok, però volevo mettere Ah, ecco Questa è l'inquadratura principale Ok Eh no, dovevo capire qual'era Ok Sigo però le variazioni di inquadrature Mi piacciono Anche se sono troppe È ammazzata la presa Guarda Guarda Non ha manco una ferita Cioè È full vita lei Lei è full vita Ah Ah Dupri Sta prendendo danni dal corpo e alla faccia Ah Ecco Mo' si è fatta leggermente male Ah pure È la madonna Che cattiveria donna L'è mancata È quello il problema Lei è mancata Eh Mo' te la fa pagare Mo' te la fa estremamente pagare Si sente comunque i rumori cambiati Degli ruoli Bene Ancora Con tutti gli oggetti che avete preso È un barile quello Mi mancava il barile Hanno introdotto cose nuove Ronda è pronta a fare l'azione speciale? No Ok Però è la carica È la carica Ok Sali L'animazione Ok Intensità artificiale è ancora un po' me Perché sui oggetti è ancora Ah La schiena Perché ha preso Guarda, 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 guarda Guarda la differenza Ok Almeno ci sta la Lo special Comunque Dupi l'ho fatta A me mi dispiace per Dupi Uh, bello La culla Culla Ah, ecco com'era quella attrazione La culla Sta scompita Alla Da una culla Buono Quasi Usa un controattacco Culla Poi controattacco Ah, bella Ah Sopra la scala Eh Non fa male Guarda 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 Votemeno E lei dice Io uso questo Noll Ho paura Questa fa più male Perché questa come la butta su lì Ecco che vuole fare oddio no animazione no non dirmi che si può fa si può fare si può fare si può fare Rodas Rodas io ti amo io ti amo io ti amo hai fatto una cosa bellissima e questa è una delle nuove dinamiche del gioco che cosa vuoi fare adesso ah giusto andiamo con le giadria con le giadria ah guarda Roda ha fatti sotto ah ancora ma non mi sta morendo ma chi se ne frega no quella cosa oh bella che cosa appena ha fatto non sfotta a Roda fidati non sfottere a Roda non sfottere a Roda fidati dopo te la fa pagare ma tantissimo ah nostra speciale nostra speciale si è arresa si è arresa si è arresa si è arresa e ha fatto una mostra speciale alla fine e beh difficile che la perdeva però però c'è stato un bello scontro dai assurdo pure quattro stelle straordinarie ma io lo sapevo io lo sapevo comunque è andato tutto sulla media quindi bene o male è andata però però dove hai se almeno tre stelle almeno il primo match ok è partita una rivalità buono 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 ok eh ora tocca agli altri minchia questa è già partita con ah oddio no raga possiamo vedere anche i match uh degli altri figo figo mi piace lo vediamo eh sì raga lo vediamo così vediamo un po' come come vanno a finire per vedere se effettivamente quanto risulta bellissimo eh sì perché ci stiamo a guardare comunque come due puntate di le puntate di SmackDown e Roy a sto punto voglio vedere come per la prossima puntata vediamo anche gli altri match eh sì ragazzi eh sì se è possibile approfittiamo bene raga qui del 38 passo e chiudo ah così nel prossimo video vi spiego un po' le dinamiche quanto potrebbero valutare quanto potrebbero avere come successo o non e poi le valutiamo anche con sul fatto del di qualità sì perché a sto punto sono molto curioso qui dal 38 al prossimo video passo e chiudo bella raga ciao a tutti ieri